Rieccoci insieme, facciamo un brevissimo punto della situazione, stiamo aggiungendo dei metodi alla classe che corrisponde, una volta mandata in esecuzione l'applicazione, a questa form. Per il momento qui abbiamo visibilità del metodo form1 che è almeno uno dei costruttori di questa classe e che si preoccupa semplicemente di lanciare il metodo initialize component che è scritto da qualche altra parte in un file separato tenuto nascosto dall'IDE in quanto gestito completamente da esso stesso e il metodo che vogliamo che sia richiamato in automatico quando qualcuno fa clic sul bottone con il simbolo più. Ho già sottolineato l'enorme importanza che la nostra classe, quindi poi finestra visibile form1 non parte da zero ma eredita, cosa che dovremmo approfondire molto più in dettaglio più avanti, tutta una serie di caratteristiche dalla classe .net form ricchissima di proprietà e di metodi già tutti pronti all'uso. Oggi prima di continuare con il nostro progettino voglio aggiungere solo un piccolo altro particolare, questo partial, perché per separare in modo efficace la parte scritta e gestita in automatica dall'IDE stesso dalla parte di codice che scriviamo noi è stato inventato questo meccanismo che consente, è abbastanza unico tra i linguaggi, di spezzare la definizione, quindi il codice che descrive una classe su due file diversi. Quindi noi qui vediamo solo la parte della classe form1 che scriviamo noi e lui nel solito file nascosto tiene l'altra metà, diciamo, che in realtà spesso poi anzi è la parte più consistente. Ecco perché noi di fatto non andremo mai a sfruttare questa possibilità che al momento volentieri lasciamo tutta all'IDE. Noi quando andremo a scrivere le nostre classi le avremo tutte al 100% nella nostra finestra dell'editor perché saranno tutte scritte da noi dalla A alla Z. A dimostrazione, se andate a riaprire quel famoso form1designer.cs, noterete anche qui la stessa parolina. Questa è l'altra metà del mondo, gestita come dicevo dall'IDE. Chiudo subito, non ci interessa più. Ho questo esempietto che sembra talmente stupido e banale e vedrete che si dimostrerà una piccola miniera di spunti interessanti. Ad esempio Se adesso io vado a scrivere un qualcosa che non è un numero qua e tento di sommarlo con un numero il programma non se ne accorge fallisce miseramente, in modo brutale, bestiale eccezione non gestita, di tipo System Format Exception il riferimento a una oscura DLL e stop non è molto carino noi dovremmo in qualche modo imparare a intercettare e a controllare il contenuto che non può essere trasformato in un numero fate clic su Continua e mettiamoci qui qua stiamo estraendo e convertendo alla cieca un po' il num1 con il convert to int32 ma se quella stringa numero1txt.text non contiene qualcosa che è un numero siamo fregati per fortuna esiste un metodo della classe dei numeri interi sì perché anche i numeri interi stessi sono una classe a differenza dei linguaggi di programmazione tradizionali che tenta di fare la conversione ma se qualcosa ostacola perché il formato è sbagliato non va in errore ma ci dice non ce l'ho fatta non è un numero quello che è contenuto in questa stringa commentiamo allora aggiungendo i due forward slash all'inizio dell'istruzione la prima conversione quella che utilizza il convert to int32 il metodo che stiamo per introdurre ha bisogno di un tipo nuovo di variabile che ancora non conoscete per dirci se ce l'ha fatta o no è il tipo booleano logico vero o falso bool così bool e poi diamo un nome al risultato del tentativo di conversione potremmo mettere conversione valida conversione valida ecco questo tipo di variabile bool può assumere dicevo solo due valori false falso oppure true vero solo che non saremo noi ad assegnare direttamente uno di questi due valori alla variabile ma sarà il metodo che tenta la conversione se ce la fa ci ritroveremo col true in conversione valida se non ce la fa ci troveremo con false lo facciamo qui dopo l'operatore di assegnamento richiamiamo il nome della classe int punto try parse tenta di fare la scansione il parse e trasformare quindi la stringa nel numero corrispondente try parse quali sono i parametri di cui ha bisogno la stringa che dovrebbe contenere il numero questo è facile quindi è la nostra casella di testo quella che vedete scritta in verde sopra ancora il nostro numero 1 txt punto text virgola il secondo parametro è un po' particolare perché vuole una variabile intera ma attenzione deve essere esplicitamente indicata con la parolina out poi tra pochi secondi vi dico il perché out e poi dove vogliamo che venga depositato il risultato della conversione se ce l'ha fatta quindi il nostro num1 adesso la rivediamo intanto mettiamo la tonda che qui manca int punto try parse il primo parametro è la stringa che dovrebbe che potrebbe contenere il numero ci prova se ci riesce due cose il numero ce lo ritroviamo qui nella variabile intera indicata come secondo parametro e depositerà true vero ce l'ho fatto ce l'ho fatta dentro la variabile conversione valida altra possibilità la stringa non contiene un numero che è possibile convertire non lascia nulla nella variabile num1 e noi capiamo che non c'è riuscito e quindi che non ha senso utilizzare il valore di num1 perché ci ritroveremo nella variabile conversione valida il valore false e adesso vi spiego questo out normalmente per una questione di sicurezza un metodo che riceve come parametro una variabile come questo text non ha la facoltà di modificare il valore della variabile che si vede indicata tra parentesi e per fortuna che è così altrimenti pensate alla situazione in cui chiamando una tra uno tra le 3000 funzioni tra i 3000 metodi a disposizione tutte le classi non aver la certezza se quel comando lì può modificarmi in modo inaspettato le mie preziose variabili il cui valore magari è stato determinato da lunghi complessi calcoli controlli non può essere sarebbe veramente una mina vagante allora il comportamento standard su cui il programmatore può fare affidamento è questo quando come parametro come questo numero uno txt.text viene indicata una variabile perché se viene indicata una costante stringa secca virgolette qualcosa o numero 18 i problemi chiaramente non ce ne sono la questione è solo quando mettiamo una variabile dicevo quando una variabile come questo text viene indicata come parametro è il valore istantaneo che ha in quel momento che viene trasferito al metodo tra i pars in questo caso qua non la variabile stessa quindi si dice che si sta mettendo in atto un passaggio di parametri per valore perché ripeto è il valore che ha in questo istante text e non la variabile text stessa che viene passata comunicata trasferita nelle disponibilità del metodo tra i pars viene anche definito passaggio di parametri per copia e può essere spiegato con una metafora che penso sia efficace è un po' come se io come prof dessi a casa in visione la fotocopia di un computer in classe perché non voglio che lui in qualche modo faccia il furbo o mi perda appunto l'originale che è troppo importante ti do la copia e quindi con quella tu fai quello che vuoi questo è il passaggio di parametri per valore o per copia quando invece mettiamo l'out è come se io dessi l'originale il computer in classe originale da proprio un disgraziato da portare a casa all'alunno e quello poi ci può fare quello che vuole cambiare il voto cancellare aggiungere delle parti cose di questo tipo tra i pars quindi lavora su una copia può fare quello che vuole eventualmente anche cambiare il valore del suo parametro ora dovremmo avere qui sotto il naso il codice ma tra un po' saremo noi a sviluppare i nostri metodi e allora ritorneremo sull'argomento ok però qualche volta ci potrebbe essere la necessità di restituire a chi chiama il metodo a chi chiama tra i parse due valori uno è quel vero falso che ci serve per memorizzarlo qui nella variabile bulco versione valida ok ma da qualche parte dovremmo pur aspettarci di vedere depositato il valore del numero estratto dalla stringa per questo si può adottare un parametro chiamato per indirizzo passaggio per indirizzo dove con la parolina out che vuol dire parametro in uscita quindi non è solo una copia di un valore che ti arriva in ingresso no in modo esplicito c'è tutto il mondo di differenze in questo out perché io devo usarlo se non metto io out e quindi so quello che sto facendo so che sto dando la facoltà al metodo try parse di modificarmi veramente il contenuto di questo num1 try parse non lavorerà semplicemente su una copia del valore che ha in questo momento num1 ma su num1 direttamente ma non all'oscuro non in modo casuale senza che io che sto usando try parse non possa avere cognizione di quello che sta succedendo sono io che te lo concedo ci metto out e quindi il contratto di utilizzo deve essermi chiaro la documentazione è lì quindi se mi metto nei guai lo sto facendo io non è colpa di chi ha scritto try parse adesso è facile potenziare i controlli usando un if sulla variabile bool conversione valida quindi posso mettermi qui prima dell'if num1 minore di 0 e scrivere qualcosa tipo se conversione valida siccome il valore della variabile è già quello che mi darebbe un controllo come minore di 0 maggiore di 0 cioè true or false non c'è bisogno di scrivere quando si usa una variabile bool mi raccomando anche se non è sbagliato non sarebbe sbagliato e dire andiamo a vedere se conversione valida è uguale a true e ricordate di raddoppiare perché il confronto pretende il doppio operatore il simbolo dell'uguale ecco io posso anche scrivere in modo ridondante così se conversione valida è uguale a true ma questa scrittura è equivalente alla più compatta sintetica if conversione valida e se voglio invece dire se non è valida basta mettere davanti l'operatore di negazione che è il punto esclamativo perché io preferisco personalmente intendiamoci in queste situazioni gestire prima il caso che non va bene perché di solito si risolve in un messaggio d'errore e basta else e mettere tutto il resto perché mi sembra sempre personalmente più chiaro quindi la mia logica prevede il controllo se non è andata bene la conversione quindi se not punto esclamativo conversione valida quindi quando conversione valida è true allora non verrà eseguita questa parte perché la nego e viceversa quindi se non ce l'ho fatta convertire parole povere posso mettere qua messaggio d'errore e magari di nuovo ritornare una cosa molto simile a questa che vado a copiare message box con lo show il numero 1 txt clear e il focus ovviamente cambierò il messaggio e qua metto intanto l'else perché è un primo controllo qua addirittura non è neppure un numero qua vado a controllare è un numero voglio anche vedere se è minore di 0 non abbiate timore di perdere un po' di secondi a indentare il codice come sto facendo io perché è fondamentale che ci sia chiarezza quando poi lo si va a consultare ho aggiunto un altro livello sto spostando tutto verso l'interno un paio di caratteri ok così a colpo d'occhio vediamo che tutta questa parte qui dipende da questo else altrimenti se fosse tutto allineato prima o poi commettere un errore diventa abbastanza facile qui dicevo devo cambiare il messaggio quindi se not conversione valida potrebbe essere errore non è un numero non è un numero non è un numero e poi ancora numero notistic clear proviamo l'insieme mandato in esecuzione con F5 con il pulsante col triangolino verde avvia paperino più 56 questa volta non abbiamo il crash del programma ma come previsto il messaggio errore non è un numero pulizia col clear focus riprova con l'esperienza capirete anche che a volte si può essere più sintetici questo codice è sicuramente perfettamente valido e anche molto chiaro però avrei anche potuto evitare di dichiarare una variabile bool ma mettere direttamente questo metodo nella condizione dell'if vediamo quindi commento questa parte col bool conversione valida poi mi copio e incollo il richiamo dell'int tra i parse e lo sostituisco alla variabile conversione valida lasciando il not perché mi interessa comunque negare lo metto qua quindi io sto chiamando e consumando al volo il valore restituito dall'int tra i parse va benissimo questo viene istituito dal vero o falso il not agisce di conseguenza e il risultato in esecuzione come ora sto per dimostrarvi non cambia per proteggere l'applicazione anche da errori sulla seconda casella di testo è sufficiente qua aggiungere un altro livello quindi else non si prosegue ma andiamo a controllare la seconda casellina posso anche fare un copy and call di questo blocco quindi se ho superato il controllo sul formato numero sulla prima casella numero 1 txt andiamo a fare il controllo anche sulla seconda per cui se è sbagliato messaggio stop altrimenti vuol dire che abbiamo correttamente riempito la prima casella facciamo il controllo sulla seconda cioè su numero 2 txt e qua però dovremmo mettere num2 altrimenti ha sottolineato in rosso perché dice ah come però num2 ancora io non so cosa sia infatti ha ragione perché l'avevamo introdotto qua quindi dovremmo spostare la dichiarazione del int num2 quindi facciamo così la togliamo da qua sotto vedete la sto togliendo da qua canc e qua metto virgola perché posso sfruttare ancora l'int per dichiarare altre variabili intere num2 uguale a 0 non mi ricordo se già avevo sottolineato questa possibilità e magicamente ho quietato tranquillizzato il compilatore che adesso accetta qui l'auto di num2 qua attenzione devo mettere l'else perché quindi se è sbagliato la prima casellina ok messaggio e ci stoppiamo altrimenti se è sbagliata la forma contenuta nella seconda casella messaggio errore e ripetiamo altrimenti vuol dire che siamo sicuri di avere a disposizione due numeri poi qua addirittura non ci accontentiamo andiamo a verificare che sia non maggiore di 0 ma questo è un altro discorso qua dobbiamo mettere quindi else ci sarà già scusate volevo dire un'indentazione per rendere cristallina la logica poi non è che l'esecuzione sia corretta perché sto indentando perché se sono sbagliate le parentesi l'errore comunque non ci scappa però ripeto rende più consultabile il codice ok che è già abbastanza complicato non è così facile trovare una serie di if else usati in modo abbastanza approfondito come stiamo facendo ora lo stiamo facendo insieme quindi dai ci sta ho di proposito aspettato a fare una modifica che forse qualcuno di voi ha già colto perché così capite bene quello che sto per dire cioè la maledizione del copia in colla forse vi ho gabbato vi ho giocato vi ho fatto concentrare sulla questione dell'if la condizione eccetera eccetera copia in colla che bello tutto funziona no perché c'è un'incongruenza noi abbiamo copiato il blocco che gestisce numero 1 e qua abbiamo lasciato punto numero 1 abbiamo modificato qua solo qua numero 2 quindi attenzione ogni volta che fate un copia in colla ogni riga va controllata e attenzione vi suona il campanello perché sono tre righe d'accordo ma se fossero 40 righe suona il campanello una telefonata vi chiamo un familiare non lo so il collega sottolineate in qualche modo mettetevi il commentino stavo facendo questo sono arrivato qui dovevo finire di controllare altrimenti alla fine rimane un errore che poi potrebbe diventare difficilissimo da scopare quindi numero 2 txt numero 2 txt il resto dovrebbe essere a posto forse perché ho fatto un po' di copia in colla e non mi ricordo più abbiamo altro grosso suggerimento ed errore tipico di quando sei principiante o sei stanco effettivamente capita anche quando uno è stanco abbiamo fatto una modifica l'errore è quello di non rifare il test per tutti i casi che prima già funzionavano perché non è detto che adesso funzionino ancora tutt'altro questo significa riprovare ancora 12 caso normale 56 va bene puoi provare a mettere uno dei due negativi meno 12 mi dice che è negativo e si ferma si e non è che mi ha messo il messaggio che non è un numero ha discriminato correttamente la situazione c'è l'errore perché qui abbiamo un numero che non è positivo e funzionerà se l'errore sul negativo positivo è di qui no ma non è che sia un errore perché semplicemente non avevamo programmato avremmo dovuto aggiungere chiudo un attimo qui sotto se supera il controllo sulla positività del primo numerino dovrei andare a fare la stessa cosa anche sul secondo quindi non è un errore è una mancanza di programmazione lascia a voi diventa anche un bel esercizio aggiungere la gestione sulla negatività del di num2 è facile basta andare sotto fare le else controllo vedete però che io non mi ricordavo più di questo particolare aver rifatto il test mi ha riportato sott'occhio quella situazione poi proviamo a saltare lasciare vuoto la casellina e mettere un numero di qui va bene non è un numero cioè nel senso che proprio non è stato inserito ecco se vogliamo discriminare la situazione distinguere quando lascia a vuoto la casellina possiamo farlo nel senso che facciamo un controllo sul fatto che la variabile text sia uguale alla stringa nulla poi magari vi faccio vedere rapidamente come poi mettiamoci qua x una stringa errore non è un numero e ritorniamo qua facciamo per ultimo il contrario 34 qua e di qui una stringa che non è un numero errore non è un numero posso anche distinguere qua ho fatto un po' il pigro potevo mettere nel primo messaggio errore il contenuto della prima casella non è un numero e qua errore il contenuto della seconda casella non è un numero fate voi io vi regalo solo uno dei modi per distinguere casella vuota oppure contiene qualcosa che non è un numero non è vuota ma non è un numero ci mettiamo qua abbiamo visto che il try parse quando la casella è vuota comunque scatta dice no c'è un problema allora è qua che posso mettermi per distinguere le case ah ok non è un numero ma è vuota oppure qui possiamo mettere il test per dire che è vuota la si confronta la stringa text con la stringa nulla così aperte e chiuse le virgolette quindi if numero 1 txt punto text uguale uguale virgolette virgolette è il tipico controllo per sapere se una stringa è uguale alla stringa nulla cioè non è stata di solito specificata quindi in questo caso qua il messaggio d'errore può essere diversificato tipo errore hai lasciato vuoto alla prima casella altrimenti il messaggio di prima vuol dire che non è un numero e poi attenzione non a caso non ho messo parentesi perché è sempre una sola l'istruzione che deve essere eseguita quando la condizione è vera e una sola è l'istruzione che deve essere eseguita quando la condizione è falsa poi in tutti e due i casi ecco perché ho staccato proprio anche visivamente ma quello che conta è che non ci sono le parentesi graffe vengono sempre comunque eseguite queste due istruzioni come giusto cioè il numero 1 txt punto clear e il numero 1 txt punto focus proviamo lascio vuota la prima casella anche perché il controllo l'ho fatto per il momento solo sulla prima dovrei replicare nel codice anche per la seconda non mi dà più come prima ah non è un numero no è più preciso hai lasciato vuota la prima casella ok se volete replicate qui nell'altro tra i parse per gestire la seconda casella avete visto che alla fine ed è sempre così sapete la maggior parte del codice se ne va per controllare la correttezza formale dell'input spesso è così sulle forme al punto l'ho fatto anche apposta perché sono molto importanti anche queste indicazioni di tipo architetturale un po' filosofiche un po' di stile se voi a colpo d'occhio vi sbattessero sotto gli occhi appunto questo codice vi dicessero cosa fa prima era facile subito avremmo risposto ah fa la somma del contenuto delle due caselline adesso capire cosa fa ecco perché a volte si preferisce scrivere degli altri metodi diversi cioè dal button 1 click ma scritti da noi e potremo provare la volta prossima in cui magari demandare queste cose qua questo controllo e là siccome è una funzione che inizia con controllo d'accordo mi metto già nell'ottica che quel codice sta facendo quella cosa lì e qui nel button 1 punto click che dovrebbe fare la somma col quale io comando la somma rimarrebbe soltanto il codice che effettivamente fa la somma come se il contenuto delle due caselle fosse corretto è una qualità superiore del codice perché ho separato l'acquisizione e diciamo la business logic il fatto che viene fatta la somma dal controllo formale dei dati ora non casca il mondo se questa separazione non viene gestita da voi all'inizio fate pure così lasciate pure così il codice anzi probabilmente all'inizio diventa un po' troppo complicato a ragionare sullo spezzare il codice in diversi metodi io però vi farò vedere come si fa siamo in chiusura di lezione ne approfitto perché siamo caldi sull'argomento per evidenziare come qui noi abbiamo messo in pratica due strutture classiche nelle letterature informatiche di organizzare gli if e gli else il primo è detto in cascata cioè mettere gli if la struttura selettiva in cascata cosa significa? è l'utilizzo immediato dopo un if un else con dentro un altro if else con dentro un altro if e così via l'indentazione suggerisce proprio il cadere dell'acqua come quello proprio di una cascata una cascata tac 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 il secondo modo organizza gli if in modo annidato vuol dire mettere un'intera struttura if else dentro un if quindi abbiamo questo if più interno if numero 1 txt.txt col suo else che è contenuto vedete nella parte vera di quest'altro if che fa da contenitore quindi l'if più interno è annidato in quello più esterno e con questo ho concluso veramente la lezione